Giovane designer serbo presenta la sua collezione per lui e per lei e Daniel Cattona Che cosa mi dici di questa collezione? La mia moda è pensata per uomini e donne Ho voluto dare un titolo alla collezione Secret Passion Ed è il tema che ho scelto per questa Serbia Fashion Week Che cosa vuol dire per voi Secret Passion? Abbiamo lavorato per un anno questa collezione All'inizio non sapevamo che questo fosse il lavoro della nostra vita Ecco perché abbiamo pensato ad una passione segreta Da che città vieni? Da Belgrado E qual è la tua idea di moda? Prima di tutto ho disegnato quello che vorrei indossare io Qualcosa che renda donne e uomini più belli e attraenti E poi è importante che gli abiti siano confortevoli Bisogna sentirsi bene e amare ciò che si indossa Questa cosa si känna It'sta il mia E' un po' possibilità di prendere le persone che si chiudono